Bentornati qui su FC24 con la carriera giocatore del nostro Tiagi. Allora, siamo al sesto posto con la Lazio, siamo a 79 di overall, puntiamo ad arrivare a 80 e subito abbiamo la partita contro il Torino, ok, che sta però abbastanza indietro, tipo 14esimo in classifica, quindi sulla carta si può fare. Diciamo che questa Lazio non va e non va, nel senso che ci sono momenti che sembra andare, momenti che invece non va per niente, insomma, è un po' così, vediamo dove arriviamo e per il prossimo anno decidiamo cosa fare, sarà importante capire cosa fare. Torino in attacco si parte subito alla grande, ma non aspettavo altro, ovviamente. Calma, Talisca, Talisca tra l'altro, il buon Talisca nel Torino. Cross Lazio lungo, ho detto, vabbè, in non so che lingua, è quello buggato, mi piace. Cancellieri, buono, è buono il controllo, ma il tiro, ma il tiro ragazzi non è buono per niente. Cancellieri, ma la difesa dove sta? Ma la difesa? Mamma mia, ma la difesa dove cappero sta? Perché io devo fare queste cose? Niente, Torino in attacco, ci stanno dominando, non so come, non chiedetemelo perché non lo so neanche io. Questi qua stanno quattordicesimi e ci stanno dominando, quindi io veramente non mi spiego cosa sta succedendo. Ma dammi un contropiede, santo cielo, niente. Non possiamo giocare in questa partita, abbiamo avuto un'occasione unica in 58 minuti. Una roba imbarazzante. Però vabbè, che dire, insomma. Purtroppo va così, sembrerebbe. Bravo Patrick. Contropiedissimo. Ma perché di testa? Ma perché di testa? Ma perché di testa? Ma spiegatemi il motivo. Ma spiegatemi il motivo. Altro contropiede, non... Cioè noi prendiamo solo dei contropiedi, sembriamo specializzati in prendere contropiedi. Di bala al Torino. Cosa? Che ci fa di bala al Torino, ragazzi? Qualcuno lo sa? Che è successo in questa carriera? Vabbè. Di bala che dopo a Roma va al Torino e rivali da Juventus. Vabbè. Ha senso, ha senso. Tutto molto senso. Contropiede. Ci si riprova. Cancellieri. Vai, Cancellieri. Riscatto a sta stagione, Cancellieri. Riscatto a sta stagione, Cancellieri. Vaffanbagno, Cancellieri. Mamma mia, ecco, bene. Come chiudere in bellezza. Rigore per il Torino. Molto, molto bene. Che dire. Insomma, tutto bellissimo. Guarda a destra e noi andremo a destra. Fa centro dagli 11 metri. Ma, ma che roba è? Perde 2-0 contro la 14esima in classifica. Di bala al Torino. Conta Lisca. Vabbè. Almeida pure. Ma che squadra c'ha il Torino? Scusatemi. Ma che squadra c'ha? E poi, come se non bastasse tutto ciò per uno Juventino, vedere di bala al Torino, così via. Pure il rigore di di bala con tanto di cucchiaio. Io, ragazzi, questo penso che sia un incubo e me ne voglio andare. Posso andarmene? E che è successo? 2-1. E che è successo? Tanto non serve a niente, infatti. Tanto finirà 2-1 per loro. Sicuramente, se non 3-1 addirittura. E qua, mica... Micca mi sorprende. Ma scusa, ma io ho fatto il contrasto. Ma sta palla, come è passata? Vabbè, sento. Va bene così. Cioè, va bene così. Non va bene così, però... Me la faccio andare bene. Che vi devo dire. No, comunque imbarazzante. Imbarazzante. Ma questo è fallo, ma scusate. Cioè, il triplice fischio finisce con una sconfitta per la squadra dei casi. Ma che partita del cappero, doppietta di di bala, cucchiaio, rigore... Eh, vabbè, insomma... È un macello questo che abbiamo appena vissuto, insomma. Veramente un macello. Ma veramente un macello. Ragazzi, non gira. La squadra non gira. Non c'è niente da fare. Questa Lazio proprio non mi convince mica tanto, eh. Mamma mia, per niente, per niente. Per niente. Alleniamoci, va. L'ultima speranza è allenarsi. Non c'è nient'altro da fare. Bisogna allenarsi, sperare che succeda qualcosa. Eh, investimenti... Ah, però... Allora, è tornato questo investimento. La 95.000. Cosa possiamo fare? Niente. Non si può fare nulla. E c'è la partita contro il Milan. Eh, beh. E mo' che a questi che gli raccontiamo. Cosa gli raccontiamo a questi del Milan noi? Cosa gli raccontiamo, ragazzi? Una storiella. Una storiella. Non credo che potremmo fare chissà cosa contro il Milan. Se facciamo un po' di a contorino 3-1. Credo che con il Milan sia ancora più complesso. Però vabbè. Io voglio essere positivo. Buono. No, ti agi. Porca miseria. Era buonissimo. Era tutto buono. Per una volta era una bella azione fatta per quasi il verso. E invece nada. Calcio d'angolo per il Milan. Pallone in mezzo. Butta fuori. Eh. No. Ma non puoi interrompere qui. Ma questo. Ma questo è illegale. Ma questo è illegale. Trovo la botta con Cancellieri. Trovo la botta con Cancellieri, ragazzi. Occhio al tiro. Non riesce a scavalcare la barriera. Dai. Siamo ancora lì. Cancellieri con Dottor Hernandez. Mi viene da ridere. Mi viene abbastanza da ridere, ragazzi. Cancellieri con Dottor Hernandez. Vabbè. Dopo questa, veramente. C'è ancora Kunis, tra l'altro. Non mi ranno. Lea, dove vuoi andare? Contropiede. Ma come cazzo? Dai, Tia, Gettua. Perché? Perché? Perché ti fai bloccare? Occasiona di cross per noi. Sto... Sto a fatica oggi. Musabarro. Addirittura Musabarro. Cosa abbiamo tirato fuori? I mostri. In quel della Lazio. Musabarro. Vabbè. Avanti è che non lo sentivo. C'è la conclusione. Ammazza Dest. Che be, che be, che bel, che bel, che bel, che bel tiro. Bello Dest. Quello è un tiro spettacolare, quasi. Tiro tecnico. Direi che ho spinto sul tasto di tiro, eh. Nel senso che... Occhio al tiro della bandierina. Non mi abbacca. Cosa ha preso? Ne ha anche un contropiede. Milan in contropiede. Giustamente. Mi sembra tutto molto chiaro. Eh, vabbè. Perché io? Perché io faccio queste cose? No, no, no. Ma perché ti fai sorpassare? Dest, ma che c... Ma più tu che dovresti essere uno dei migliori della squadra? Pensare agli altri. No, ma... Ma no, ma no. Ma ho preso il pallone. Ho toccato il pallone, signor arbitro. Io... Io... Non manco me lo farai vedere. Decisione che mi trovo da... De Keteler. Parato. Il rigore è parato. Tirato malissimo. Ma malissimo. No, vabbè. Ma allora dovete farle da vincere. Porca miseria. Ma dai. Guarda ancora a destra, De Keteler. Possono sbloccarla qui. Cara che si chiude qui. Pareggio 0-0. Non sempre entrabbe le squadre. Ma che cosa è successo? Ma scusate. Il rigore. Si era capito già dai primi minuti. E che sarebbe stata una giornata a vara di gole. Ma io perché gioco ancora questo gioco del... Ma perché? A parte che, vabbè. Glielo paravo, eh. Perché mi sono buttato a destra. Cioè, Buck che para due rigori così. È molto, molto, molto... Interessante. Però... Però ragazzi che fatica. Oh mamma mia. Che fatica. I tigolani stanno crescendo. Eh, capirai. Che culo. Io però vorrei anche... Vorrei anche lottare per cose interessanti. Cioè... Oh, possiamo acquistare cose nuove. Ma finalmente. Che bella sta cosa. Oh, guarda che figata. Nuove cose finalmente. Che si possono... Che si possono fare. E... Passa del tempo con mister. Perché poveraccio. Anche lui. Non ci può far tanto. Se ha dei giocatori così... Così un po'... Un po'... Rincoglioniti. Comunque... Ma personalità quanto manca per arrivare... E a voglia. Il livello 6 è un po' in là. Ancora. Però ci si può arrivare. Ci si può arrivare. Con molta calma ci si può arrivare. E... A rischio è una panchina per la Lazio. Addirittura Sarri è a rischio. Sarebbe a rischio. E noi arriviamo così. Lecita scatto 94. Addirittura difensiva che non serve a nulla. Comunque siamo a 79 e mezzo. Non è male. E cosa possiamo fare? Niente. Non ho i soldi. Siamo 4000 euro. Vabbè. Col sassuolo. Col sassuolo. Mazza. E poi se guardi la squadra manco è tanto male. C'è di peggio. A voi se c'è di peggio. Eh. Però... Non si riesce a... A farla funzionare. A parte che non mi trovo bene con alcuni giocatori tipo cancellieri. Non mi trovo tanto bene. L'ingra là. L'esterno. Non mi sembra. Sto fumie di guerra. Diciamo che è un po' complesso anche farsi trovare a volte. Calcio d'angolo. Proviamo a fare lo schema. Proviamo dai. Fatti vede. Io vedo passata Tiagi però. Sildiglia. Mazza Sildiglia. Tutti per il calcio d'angolo. Un altro. Another calcio d'angolo per noi. Ok. Vabbè. Ormai oggi calcio d'angolo dipendenti. E... Un'altra volta proviamo. Cancellieri. Tiagi però c'è già che questo non sa tirare in porta. Una volta che lo fa. E faglielo fa poveraccio. No. E vabbè. Buonanotte. Cioè ti metti in mezzo. Tiagi. Capito che ti sta sulle scatole. Anche a me. Tantissimo. Però. Bisogna deve anche vincere le partite ogni tanto. La mette verso l'area. E se non si collabora. È un po' complesso. Darla a casa. Niente. Stasso l'incontropiede. Noi non riusciamo veramente a fare mai niente. Cioè è una roba... Facci. Bravo Ato. Eh però. Comunque la palla l'avevo tipo riconquistata. Mamma mia. Cosa appena vi... Che è successo? Perché? Vabbè. A me va bene lo stesso. Non me ne faccio una colpa. Un problema. Oh. C'è la possibilità per il vattaggio. Mamma mia. Ma vacci calciniere. Cosa dai? Pugne destra e manca. Vabbè. Questo scemo. E vabbè. Comunque. Oh. Ti agita solo. Sì. Sì. Non ci credo. Questo è un miracolo. Questo è un miracolo. 1-0 Lazio. Ti agi. E finisce qua. E finisce qua. Tre punti. Cosa è successo? Aiuto. È un miracolo questo. Questo è un miracolo. Questo è un miracolo. Tre punti benedettissimi. Benedettissimi. Perché come si stava mettendo. Va bene così eh. Mamma mia che fatica. Ho però. Ogni volta. E bello questo. Bello. Questo schermo nero. Mi piace proprio. È quello che ho fatto apposta. E andiamo avanti dai. Arriveremo a 80 entro oggi. Non credo eh. Perché ce ne vuole ancora un po'. Però stiamo aumentando parecchio. Questo bisogna dirlo. Attività. Microfinanza. Disponibile. Abbiamo due investimenti che tornano indietro. Compriamoci qualcosa. Si può? Si può? Questo mi piace. Questo mi piace. Ci manca solo due cose. Però si possono fare. Senza grossi problemi. Juventus Lazio. E mo che. Mo che gli racconto la Juventus io. Che gli raccontiamo la Juventus. Buongiorno. Buonasera. Buonanotte. Si. Probabile. Molto probabile. Va bene. Io ho paura. Io ho paura. Gabriel Gersi. Slavic. Si vabbè. E se. Mi piacerebbe. Questa è la mia Juve. Questa è il lungo della Juve. Si. Ma. Niente. Non dico niente perché. Vorrei anch'io giocare un po'. Però. So già come sarà. Sto a partire. Un po' senso unico. Si scommetto quello che volete. Bravo per noi. E dammi il contropiede. Mamma mia. Ma che te costa. Niente. Non la. Non si esce dall'aria. Lascia partire il traduzione. Ottimo intervento. Oddio. Oh raga. Raga si è messi benissimo. Bellissimo. L'ingr. Possono passare in vantaggio. Che pippa. Io l'ho angolata. Quello è bello. L'ho anche angolata. Mi sono anche impegnato. Mamma mia che. Che mestizia. O se squadra. Tiro potentissimo. C'è Sniper. No. Juventus in attacco. Ora no. Non è il momento. Non è il momento. Capri Gesù può calciare. Sentite il musico. Bravo Atom. Si mola su questo tiro. Il mio Atom. No. Ma no. Ma no. Ma. Ma perché sempre agli altri. Calci di rigore. Poi. Guarda a destra. Andrà ancora a destra. Passaggio importante. Anche questo. Anche questo va a destra. Perfetto. Rata mastodontica. Di Bach. Bach. Tra i rigori su tre oggi. Parati. Sta a diventare il portiere. Che parla tutti i rigori del mondo. Cancellieri. Eh beh. Cancellieri. Ma quando mai. Ma quando mai. Mamma mia. Però non stiamo giocando male. A parte Cancellieri. Non butta dentro la palla. Neanche se. Se la buttano dentro con lui. In mezzo. Non. Non stiamo giocando affatto male. C'è il vantaggio per la Juve. L'arbitro lascia giocare. No. Va bene. 0-0 onestissimo con la Juventus. Eh. Io non. Non è che mi dà vento. Eh. Va benissimo. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Uno 0-0 onesto contro la Juventus. Va sempre bene. Io non posso lamentarmi quest'oggi. Potevamo comunque portarla a casa. In un qualche modo. Poi vabbè. C'è il rigore di mezzo. E. L'abbiamo parato. Per fortuna. E. Vabbè. Comunque. La Roma sta quinta. C'è il derby. Eh. Il derby è importante. Ragazzi. Ti agi per entrare nella storia. Vuole segnare al derby. Per entrare nella storia della Lazio. Ce la farà? Non lo so. Intanto. Investimento. Abbiamo tre cose. Questo ritorno di investimento. Intanto. E. Possiamo comprare questa cosa qui. Un piccolo appartamento. Così a buffo. Perché. Ci piace spendere. Oh. Proviamoci al derby. Dai. E. Mamma mia. Ma quant'è che mandano via cancellieri? Il giorno che sarà. Farò festa. Probabilmente andrò via prima io. Però. Il giorno più atteso. Dalle tue tifoserie. E l'occasione. Per rimanire. Il derby è importante. È molto sentito questo derby. Penso che sia il più sentito in Italia. Il derby Lazio-Roma. Roma-Razio. Che sia. Quindi. Portiamo la casa. Dai. Sarebbe clamoroso. Sarebbe clamoroso. Lazio in attacco. Ma che parte? Tra l'altro. Ah lì. Ok. Nessuno ha accorto ora. Ederson. Tiagi. Cristobal Gardner. Che cazzo parla questo? Oh. Occasione da sfruttare. Super parata. Da pochi passi. No. Tiagi al derby. Stava per segnare veramente. Mica per finta. Cosa gli ha preso il portiere? La stecca. Clamorosa. In una parola. No. Ma dai mi contropiede. Lì ci stava. Lì ci stava un bel contropiedino eh. Roma in attacco. Si è messi malissimo però. Bravo Dest. Ma dai. Mi sto contro. Niente. Do danno a loro il contropiede. Do danno a loro. Perché? Per quale motivo? Bravo Yavi Galan. Ederson. Apri tutto. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'appliccante. Ma 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 perché? Ma perché? Ma perché? Io voglio sapere il perché di queste cose. Questa è mafia. Bellissimo. Tiagi! Al derby! Axunna tiagi si sblocca al derby. Bellissimo. Bellissimo. Questo è memorabile. Il gol al derby ragazzi è pure samba. Dice ma che cavolo. Cosa ho appena visto eh. Che io dico. No ma 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 dai. Ma dai. Questi rigori. Ancora a destra? Il rigore può valere la parità. Eh cazzo sto. Sì però c'è il quarto rigore che prendiamo in tre partite. Ma non si può vivere così. A noi mancuno ce ne danno. Loro ho quattro. Cioè è proprio un ingiustizia. Già che facciamo fatica a segnare normalmente. Non ho parole. Pacchietà. Grande opportunità. Buck. Adversione i pallone lì. Cosa ha preso Buck ancora comunque. Porterone eh. Stavamo stato un bel portiere sto Buck. Cross lungo. Potrebbe essere importante. No. Occhio al pallone per il possibile l'antaggio. No è rigore. Ma è rigorissimo. Ma è rigore. Ma è rigore raga. Palese. Il portiere mi ha buttato per terra. Era gol. Ero lì sulla palla. Non ti agi. Ero arrivato. Correre in aria. Buona qui la torsione. Molto meno la mira. Bella la mafia Johnny eh. Mamma mia dai però. Non si può così. Ma non si può così. A me non fischiano neanche un rigore. Questo si chiama cammello. Cammello. Addirittura. A me non hanno neanche un rigore. Per sbaglio. Questi invece le danno 58 partita. Guarda. Guarda che rollo. Ma va. Questi ce l'hanno veramente rapinata. Questa rapinata. Ragazzi. Questa rapinata. Viaggi tristissimo. Perché è incavolato nero. In un mondo con la VAR. Vedere sti rigori inondati. No. Però a parte di scherzo. Cioè. Quello era rigore tutta la vita eh. Mi ha atterrato in aria di rigore eh. E gli andavo in porta tranquillo. Quello era gol. Quello era gol. Valese. E invece. E invece. Vabbè. Andiamo a farci l'ultima. Siamo già ad aprile. Tra le altre cose. Quanto manca. A questo campionato. Quattro partite. Ne mancano sette. Ma. A questo punto finiamo la stagione. Nel prossimo episodio. A questo punto. Oppure ne faccio sette oggi. Adesso vedo. Facciamo questa intanto. Poi. Oh. Ci avviciniamo a ottanta eh. Siamo vicinissimi a ottanta. Facciamo questa. Vediamo quanto dura. E decidiamo. Perché se riusciamo a farne sette oggi. Se la prossima volta. La prossima finiamo la stagione. E apriamo un'altra stagione nuova. Magari. Vedendo cosa fare. Se cambiare squadra. Oppure no. Probabilmente sì. Cioè. Piaggia deve fare questo live-up. Ragazzi. Dobbiamo. Dobbiamo. guardare un palco cinici ancora più grandi. Tipo la Champions per dire. Vedeva bellissimo. Napoli in solitaria. Si inizia sempre bene comunque devo dire. No. Bravo Patrick. L'ha ancora lì. E oh. Calma. Bravissimo. Contropiede. Ederson. Cancellieri. Cancellieri. Mamma mia. Posso essere triste. Piaggia non so. È inciampato. Da solo. Non so come abbia fatto. Ma è inciampato. Parese. Contropiede per il Napoli. Calma. Calma. Bravo Dest. No. Ma questo era bel contropiede. Altro che quello di prima. Questo era bello. Questo nel caso era molto bello. E invece non ce l'ha andato. E beh. Che ti aspettavi. Che culo che non ce l'hanno. Non ha dato il vantaggio. Perché lì era. Era palla del Napoli ancora. Palese. Palese. Calcio d'angolo per il Napoli. Attenzione al Napoli che è pericolosissimo. Occhio al corner. E infatti. Bravo Buck. Oh ma quando è. Cioè. Sempre loro. Ce l'hanno da pane in attacco. Casino di cross per il Napoli. Ridaie. Ci siamo. Siamo sempre qua. Palla a cercare. Ah oh Patrick però. Evita guai. Perché non mi fai il passaggio di prima? Perché si notta. Il gioco. Fatemi capire il motivo. Io mi fai un cavolo di passaggio di prima. Invece devo controllarla. Puoi passarla. Per forza. Sennò non sono contento. Vabbè. Cross. Bello il cross. No. Era bellissimo però eh. Era stupendo in realtà. Cross lungo. C'è Tiagi. Pronto. Tiagi. Non deludermi. Ti prego. Non deludermi mai. Tiagi. Lazio in vantaggio contro il Napoli. Non mi delude mai sto ragazzo. Non mi delude mai. È fortissimo. Comunque è diventato una bestie in questi anni eh. Da come era partito. Era imbarazzante. Si sta... Si sta facendo il ragazzo. Contropiede. Però non c'è nessuno. Non c'è nessuno. C'è Dest. Dest va da solo. Dove vai Dest? Mamma mia Dest però. Calcio d'angolo a disposizione per... Abbiamo un calcio d'angolo importantissimo. Settantatraesimo. Potremmo dopo questa averla vinta. Non lo so. Staremmo a vedere. Canceglieri veramente te. Te che ti ha messo a giocare a calcio. Si può sapere. Vabbè. 1-0. Lazio. Passa. Vince sul Napoli. Grande vittoria. Vittoria questa. E devo dire che con me abbiamo pareggiato. Con Milano e Juventus abbiamo vinto contro il Napoli. E poi con le piccole facciamo schifo. Palesemente. Non so perché sta cosa. È abbastanza strana in effetti. Non c'è senso. Però... Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Vittoria nel derby. Quale derby? Napoli-Lazio? Mi sa che questi non capiscono niente di geografia. Entro di carce. C'avete dei problemi seri evidenti voi. Ve lo dico. Non per fare la persona cattiva però. Cioè. Vediamo che Napoli... Napoli... Lazio. Sono proprio... Poetanei, no? Vabbè. Comunque. Ma io che mi faccio ancora certe domande davanti a un gioco del genere. Ma sono proprio un coglione. Vabbè. Sesto posto. 53 punti. È... È la conferenza al momento. È quello che è. Comunque. Comunque. Tiagi arriva a 80 di overall. Questo è un miracolo. Questo è un miracolo. Prendiamoci conto. Di quello che è appena successo. Attività. Che c'è di nuovo? È pronto. Ah. Ok. E posso fare questa cosa. Facciamola. Facciamola. Mi sembra... Mi sembra più che giusto. Facciamo l'ultima partita a questo punto. Diciamo che se riuscissimo a qualificarci almeno in Europa League non sarebbe male. Però dobbiamo vincere tutte. E che... Non è proprio un discorso così semplice. Onestamente. Bastanza complesso. Insomma. Ci si può provare. Per carità io non dico niente. Proviamoci. Vediamo come va. Sperando bene. Cross lungo. Oh. Già il cross buggato mi piace tanto. Sperando che sia veramente buggato. Sì. Dovrebbe essere. Sì. Sì però. Mamma mia. Link. Manco i passaggi se fa... Oh. Questa è una casaglia d'oro eh. Link. Buono stop però. È lentissimo ragazzi. È un trattore sto giocatore. È un trattore. Non corre. Non c'è. Sembra veramente un cavolo di trattore. Non si riesce a manovrare. Santissimo. A me le ali pesanti non piacciono tanto. Cancellieri. Oh. Vedremo un gol di cancellieri entro fine stagione. Prima che me ne vada magari. Sarebbe bello eh. Sarebbe molto bello ma staremo a vedere. Se il miracolo potrà accadere. Non lo so. Non ne ho idea. Alzate si chiama quello. Oh alzate. Aumenta la pressione e voglio ridurre un vantaggio. Può essere l'occasione per condurre. Alzate bellissimo. Lo voglio nella carriera. Come 89esimo. Eh ma io come faccio lì? Eh buonanotte. Mamma mia. Pareggio contro Venezia. Cioè veramente fate. E questo dunque è il risultato. Vabbè stiamo zitti che è meglio. Mi viene solo da piangere. Non abbiano voluto rischiare. Comunque è durata pochissimo sta parte. Tipo un minuto. Cioè veramente. Due azioni. Finito. Così. Senza manco parlare. Cioè proprio così. Vabbè. Io che devo dire. Ormai le parole sono sprecate. E niente. Allenamento. Resistenza 84. Beh. Comunque ti agita. Ha delle statistiche offensive. Da top player. Non vorrei di ma. Non vorrei di. Ma è importante. Oh investi nei videogiochi. 625.000 euro di ritorno. Ammazza. Hai capito. Ma hai capito tu. Cosa abbiamo davanti noi. Niente ragazzi. Direi che ci becchiamo alla prossima. Per finire questa stagione. Siamo settimi ora. Perché il Napoli ci ha superato. Ma ne ha una in più. E. La Roma è un po' imprendibile. Anche la Taranta è imprendibile. Eh. Mi sa che. Entriamo in conference. Siamo già contenti. Dai. Mi sa di sì eh. Perché. Non vedo grandi. Grandi possibilità. Oltre la conference. Pensa al momento. Eh. Un secondo. Ma. Scusatemi eh. Io. Che squadre. Che squadre posso avere io. Il Boku. Monza. Atletico. E Borussia. Anche. Oltre a Manchester. Ma. Io posso vedere. Tipo. Non so. Altri campionati. Per capire un po'. Dove. Potremmo andare. In Manchester. Dove sta. Primo in classifica. Quindi si va a fare la Champions. Con Manchester. E. Atletico Madrid. Secondo. Champions. Mi sono perso la Germania. Con il Borussia Dortmund. Che è secondo. In tutti i casi. Noi. Nel prossimo anno. Facciamo la Champions. Però io vorrei andare. Al Manchester. Dove. E' stato. CR7. Io voglio andare lì ragazzi. Ma. Manchester. Poi. Se si riesce. Real Madrid. Vediamo un attimo. Se riusciamo. Di arrivare proprio all'apice. Del calcio mondiale. Che. Sto ragazzo. Solo meriterebbe. Dopo tutti gli sforzi. Che sta facendo. Le sopportazioni. Tutti i continenti. Che si è fatto. Tutte le nazioni. Insomma. Un casino. Ragazzi. Vi ringrazio tanto. Ci becchiamo. Alla prossima. Per finire. Questa stagione. Ciao ragazzi. Alla prossima.